Ah, la bocca se me la fa più. E allora me la posso togliere. Sì, perché io faccio la notte adesso. E allora chi se me la fa più, per verità. Niente, io non mi muovo proprio. Noi scherziamo, sono cose che verano. E arrivi qua. Come sono? Primo nostro, come va? Bene, dai. Benissimo. Qua la mano. Ricominciamo qua questa cosa. Signor Carnela, la prego. No. C'ho questa sulla di destra. Solo quella? Sì. E' l'altra cosa? No, questa gliela ha dato dopo. Eh? Come va? Beh, signor Carnela, ci arriva. Sono molto felice di essere qui. No, noi siamo felici di averlo qua. No, davvero. Lei è un po' l'eroe della nostra fanciullezza, della nostra gioventù. Io mi ricordo quando lei ha combattuto a Piazza di Spagna contro Paolino Uzzucundum. Uzzucundum. Eh? Uzzucundum, se lo ricordo. Uzzucundum. Eh, se lo ricordo. Paolino, lo spagnolo. Sì, sì. Eh, Paolino. Paolino, lo spagnolo. Chi? Adesso a Roma arriva un altro Paolino. Chi è? È la spagnola, Paolino. Non sembra niente, è vicina alla mia. Poi se state buoni vi faccio vedere pure il piedino. Guardate il piedino. Faccio vedere il piedino.